C'è una strada che ci fa viaggiare tra bellezza e natura, tra castelli imponenti, memoria del passato, miti, leggende e sentieri di fede, tra sapori unici e tradizioni intatte. Tra Campania, Basilicata e Calabria c'è una strada dove ogni viaggio è una scoperta. È l'autostrada del Mediterraneo. Buon viaggio! Grazie a tutti!